133.000 euro sui 500.000 ricavati dal dimezzamento volontario degli emolumenti dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, in un anno hanno finanziato 58 piccole e medie imprese attraverso il sistema dei confidi. 1.200.000 euro totali erogati, mediamente 20.000 euro per ciascuna impresa, che hanno contribuito a far crescere anche 11 nuove attività, commercio artigianato, servizi e ristorazione ai settori interessati dall'iniziativa dei 5 Stelle, che si affianca all'acquisto di una turbina a spalaneve, dicono i pentastellati, esempio di cosa si possa fare tagliando i costi della politica. Noi abbiamo dimezzato i nostri stipendi, cosa che avevamo detto già in campagna elettorale, abbiamo tagliato le nostre indennità di funzione, non prendiamo i rimborsi non documentati, tutto questo lo facciamo senza una legge perché vogliamo farlo. Per aiutare anche gli altri abbiamo preparato una legge che abbiamo presentato, legge che però purtroppo è stata rimandata di nuovo in commissione, una legge molto semplice che semplicemente riduce gli stipendi dell'indennità di carica dei consiglieri regionali e riduce anche in parte i rimborsi. Non sono necessari, a nostro parere, se noi riusciamo a lavorare con più o meno la metà dei nostri emolumenti, la stessa cosa potrebbero fare gli altri. Questa iniziativa portata avanti col Movimento 5 Stelle è una piccola goccia del mare, sono 12.000 i posti di lavoro che si sono persi in cinque anni nell'artigianato, 2,7? Purtroppo sì, il dato parla da solo, c'è una difficoltà generale soprattutto delle micro e piccole imprese, per questo noi abbiamo sposato l'iniziativa del Movimento 5 Stelle perché in realtà con pochissime risorse si sta dando un segnale politico ben preciso e quello che noi stiamo chiedendo quotidianamente alla regione Abruzzo, sono tre anni praticamente di regione ferma, non riusciamo né a sbloccare i fondi della vecchia programmazione, su quello basterebbe una semplice delibera di giunta regionale, né tantomeno parliamo della nuova programmazione e abbiamo un sistema soprattutto di micro e piccole imprese che ha una quotidiana difficoltà per quanto riguarda l'accesso al credito.